Alle mie spalle c'è una delle vie del quartiere di San Domenico. Non si può scendere ma si può salire. Basta vedere le dimensioni e le auto parcheggiate ad un lato per rendersi conto di quanto sia difficile muoversi per i residenti. Residenti che però oggi alzano la voce, chiedono al sindaco di essere ascoltati, chiedono un incontro. Questa è una zona che ora ha molti abitanti, si sta pian piano ripopolando. Ci sono però tantissimi cantieri, è giusto che la ricostruzione vada avanti ma è giusto per loro anche disciplinare la loro vita quotidiana. A San Domenico è sempre più caos per i parcheggi o stagio dei cantieri, così i residenti ora si fanno sentire. Ci sono poche strisce gialle, parcheggi all'arrembaggio, molte rimozioni di veicoli spesso. Ora però i residenti si sono uniti in un comitato per mettere nero su bianco i problemi e cercare la soluzione. La zona come si diceva si è ripopolata ma i cantieri rendono il tutto complicato, è difficile anche passare per i mezzi di soccorso. A questo punto loro chiedono un incontro urgente al sindaco Biondi. Sostanzialmente spesso dicono di trovare i posti occupati da tecnici operai. Prima del sisma c'era la ZTL, si riusciva a gestire meglio, nulla togliere alla ricostruzione che deve andare avanti alle necessità delle ditte ma serve un piano più organizzato. Prima non c'erano neanche le strisce bianche, denunciano i residenti, ma si viveva meglio. Poi lì c'è la Corte dei Conti nella piazzetta. Se ci sono iniziative il caos è ancora più evidente. La volontà non è certo quella di creare tensioni ma di sedersi attorno a un tavolo anche con le ditte per disciplinare al meglio la vita e la necessità di tutti.